Convocato per il 26 novembre alle ore 17 il prossimo consiglio comunale di Agropoli. All'ordine del giorno due interpellanze del consigliere di minoranza Agostino Abate, la prima sulla questione degli orti urbani, la seconda sulla delibera di giunta del 5 ottobre scorso. Tre invece sono le interpellanze richieste dal consigliere di minoranza Mario Pesca, una inerente la gestione del cineteatro Edoardo De Filippo, la seconda sulla risoluzione della posidonia spiaggiata e la terza sull'organizzazione dell'amministrazione comunale volta ad accedere ai fondi Recovery Fund destinati ai comuni. Anche il consigliere Giuseppina Botticchio cercherà risposte in merito alle sue due interrogazioni sia sulle condizioni della strada provinciale 184 in zona Trentova e sia sull'ospedale di Agropoli. Al decimo punto sarà ratificata la variazione di bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale con delibera 264 del 28 settembre scorso. Nel penultimo argomento si discuterà sull'ampliamento degli spazi didattici presso le scuole elementari Gino Landolfi e Luigi Scudiero. Infine la deroga relativa all'istanza di permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato per civile abitazione in struttura turistica ricettiva denominata la Colombaia.